Ok, qua ci troviamo di fronte a questa scrittura che ci chiediamo che vuol dire. Diciamo che sembra un operatore OR senza una stanghetta e effettivamente è un operatore OR, effettivamente nel suo funzionamento. Andiamo un po' però a vederlo meglio nella sua definizione e utilizzo. Andiamo magari a creare un altro file, chiameremo UNIONS, basta che andrò fuori da base, fortesemente. Vediamo un nuovo amichetto, UNIONS.TS, diciamo sempre al nostro compilatore simpatico che vogliamo andare a watchare, a guardare UNIONS.TS, anche se faremo solo dei types qua dentro. Ma per sicurezza ci mettiamo di là, chiudiamo il RAI e andiamo in questa nuova, incredibile, pazzesca avventura. Diciamo che le UNIONI ci permettono di andare a gestire tipi di dati che possono avere diverse, chiamiamole, tipologie o forme. Ecco, sono un po' un'altra forma. Facciamo un esempio, quindi mettiamo un punteggio, const punteggio, e per me punteggio può essere di tipo string oppure può essere un number. Andiamo a dire che in questo caso è 30. Ora, se io andassi, anzi lo chiamassimo let, e andassi appunto a dire che il punteggio è uguale a 30, non otterrei nessun errore. Questo è il caso in cui si vanno ad utilizzare le UNIONI. Le UNIONI ci permettono di andare appunto a definire che un certo tipo di elemento può assumere più tipologie di dato. Diciamo che è un caso anche molto comune di utilizzo delle UNIONI, un pochino per stringere il campo su alcuni valori. Quindi metti in caso che è di finissimo, type, user, e user potremmo dire che avrà, vabbè, al solito ID, non importa questa cosa qua, un nome, un cognome, e poi magari avrà un ruolo. E avremo questo tipo di UNIONI. Ecco, questa UNIONI ci va a dire sì che questo elemento può avere due valori, ma che possono essere solo unicamente admin e user. Questo è un caso molto utilizzato per andare a stringere un po' il campo utilizzando l'UNIONI di alcuni elementi. Quindi se inizia a creare quello che è un nuovo user, ecco che mi troverei con ID, nome, cognome, e poi qua in role posso dire solo admin o user. Se commettessi moderatore, ecco che otterrei un errore per risolverlo, diciamo, dovrei anche abilitare quello che è il ruolo di moderatore. Quindi questa è una casistica con cui possiamo utilizzare l'UNIONI invece che per ampliare il campo, in realtà per andare a stringere il campo di valori che possiamo andare ad accettare. Un altro esempio molto comune di utilizzo di questi parametri è che magari io mi trovo con una funzione che si chiama, in questo caso FN, normalmente che andrà ad accettare quello che è magari, piuttosto che uno user, che non ci vuole usare lo user, andrà ad accettare quello che è il valore di param e param sarà o una stringa o appunto un number. E questo è un caso molto comune, mettete caso che io stia usando il mio punteggio per fare qualcosa in questa funzione, ecco che mi trovo esattamente in quella situazione. Per ora io mi rendo conto che se vado a fare param, dot, qualsiasi cosa, ecco che mi trovo solo con tre metodi, che sono i metodi che hanno in comune le stringhe e i numeri. Se devo andare a compiere alcune operazioni, devo andare a stringere il campo. Io vado a stringere il campo proprio dicendo che utilizzando quello che è l'operatore type off, type off va a ritornarci quello che è il tipo di dato con cui stiamo lavorando. Qualora appunto fosse una stringa, io vado a utilizzare tutti i metodi, avrò a disposizione tutti i metodi del caso che riguardano proprio le stringhe, quindi quale su si tiene tuo uppercase, perché va bene. Se invece mi renderò conto che sarà un number, che questa condizione è esclusa, quindi non è una string, è per forza un numero, ecco che vado a utilizzare i metodi disponibili sui numeri. Se andate a fare un over sui singoli elementi, rendete conto che otteniamo anche qua una stringhe qua, è un number, quindi typescript è abbastanza intelligente da permetterci di fare questo tipo di inferimento e andare a lavorare con il tipo di variabile giusta. Quello che sta succedendo nel nostro file, che non è questo, ma è questo, è esattamente la stessa identica cosa. Ah, già una volta che entro qua dentro, entro nell'incubo, devo dover mettere export. Ok. Andiamo temporaneamente a chiudere. Ed ecco che ritorna un po' al tema, ci siamo detti prima, con i nostri simpatici array. Ecco, andiamo a prima attimo il file degli array, ci rendiamo conto che questo tipo di scrittura, ora forse ci sembra un pochino più chiara rispetto a prima. Questo è anche in questo caso una unione, e a sua volta anche un'unione. Ora, uno può andare anche ad avere delle unioni un pochino più complesse, in cui va ad avere che lui come ruolo qua ha user, stringente, e poi può andare a definire quello che è un type che si chiami admin. Deveva fare così, se lo copia, e avrà qua admin. E admin qua si porta dietro, ho fatto di essere un admin, e se qua mi creassi il mio bel admin, mi creassi il mio simpaticissimo admin, ecco che avrei, vabbè, lo stesso giochino, nome Mario, cognome Rossi a caso, ruolo avrei admin. Ora posso dire che un utente è di type. user admin, in cui ho questa distinzione, in cui uno può andare a effettivamente avere due modelli completamente differenti, e poi reagire a seconda di come quel modello si comporta, magari l'admin ha altre funzioni sotto, che sono presenti se non l'admin, io vado a verificare che lui sia un admin, e poi so che sto lavorando con il modello dell'admin. ecco, per andare magari, facciamo finta che l'admin proprio si porti dietro, ad esempio, test, che sarà di valore test, all'interno del mio admin, test, diciamo che è una stringa, se io dovesse andare ad accedere a questo valore, metti in caso che abbiamo la function numero 2, in cui abbiamo il nostro user or admin, ecco, io qualora appunto avessi questo elemento, lui vedete che va a fare un tipo di inferimento in cui capisce non solo che questa volta davanti a una stringa un numero, come in questo caso, che è un pochino più semplice, ma si rende conto che in questo caso è di fronte a un admin, oppure di fronte a uno user. ecco che il caso d'uso ci aiuta a vedere qual è il potere veramente di queste unioni e quanto TypeScript riesca a capire cosa stiamo andando a fare rispetto al modo in cui definiamo i nostri types.